E' tornato a casa il 75enne di Ascea, aggredito da un cinghiale sabato pomeriggio. L'uomo si era recato nel suo terreno a Mandia, frazione del comune cilentano, quando, mentre stava dando da mangiare i suoi animali, un ungulato di imponenti dimensioni l'ha prima puntato da una distanza di circa 50 metri e poi lo ha azzannato a un braccio. Il contadino ha cercato di liberarsi, ma nella fuga è caduto in un dirupo a margine del suo terreno e solo a quel punto il cinghiale si è allontanato ed è scappato via. L'episodio, che poteva avere conseguenze drammatiche, si è consumato davanti agli occhi della moglie del 75enne e di un vicino di terreno, che hanno subito allertato i soccorsi. L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove ha ricevuto tutte le cure del caso. Ha subito danni ai tendini e per questo necessita di ulteriori esami, ma fortunatamente è tornato a casa dopo un breve passaggio nel reparto di ortopedia. La sicurezza dei cittadini residenti nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e non solo, continua ad essere messa a repentaglio dalla presenza massiccia di ungulati che sia di giorno che di notte distruggono coltivazioni, invadono i centri abitati e spesso causano incidenti stradali. Per l'ente Parco dunque, che solo qualche settimana fa aveva annunciato l'introduzione di altri 300 sele controllori, resta la principale problematica da risolvere sul territorio.